eccoci in compagnia di Lorenzo Pintus, allenatore del gruppo under sedici che milita nel campionato di serie B2. Si è conclusa domenica scorsa, a fine settimana scorso, il girone di andata del campionato di B2 e quindi chiediamo a lui un giudizio sulla delle prestazioni insomma relativa alla propria squadra in questo girone. Allora rispetto alla classifica i punti e la posizione sono abbastanza soddisfacenti. La cosa la cosa più bella, interessante è come abbiamo risolto alcune situazioni di difficoltà perché il campionato è molto impegnativo ma le squadre cambiano in continuazione e ci presentano sempre problemi e soluzioni diverse da risolvere. Infatti sono molto soddisfatto sia delle gare portate a termine vinte sia anche quelle dove purtroppo ci hanno visti sconfitti. Non ultima quella con Siena che aveva in tutti i suoi aspetti delle difficoltà. Noi abbiamo ottenuto testo ovviamente ci sono alcune cose un po' da correggere e la fortuna se vogliamo è che la prima parte del prossime partite, la prima parte di ritorno sono tutte squadre di vertice che metteranno alla prova la nostra migliore condizione che è quella attuale. Allora entriamo un po' nei particolari. In questo girone di andata qual è la cosa che ti ha sorpreso di più del tuo gruppo? La capacità di adattarsi alle diverse situazioni. Eh vuoi un po' perché le ragazze devono sia a livello d'età, di campionati, girare e tutte devono essere messe alla prova. Vuoi anche le situazioni dell'avversario, tutte che sono entrate hanno sempre eh trovato la maniera di uscire dalle situazioni che a loro competono. Poi quando ovviamente il livello si alzava troppo, comunque non hanno mai abbassato la testa, hanno sempre cercato di dare il massimo. Che cosa c'è da migliorare secondo te? L'attenzione che è una cosa che va allenata tantissimo e di seguito quindi la continuità. Eh a volte si rimane su su un atteggiamento e ci deve essere sempre una spinta esterna a farlo cambiare sia quando è positivo sia quando è negativo. Eh c'è invece qualcosa che deve partire da loro da dentro eh su ogni fondamentale sia tecnico sia anche come si gestiscono i spazi esterni al gioco. Allora facciamo finta insomma come se eh fossimo a scuola no? Eh le ragazze del gruppo Ander 16 frequentano la la serie B2 per crescere e per imparare. Eh allora ti dico quattro materie e tu mi dici il voto da uno a dieci e un breve giudizio che giustifica il tuo voto. Allora partiamo dalla ricezione. Ricezione. Il voto per la categoria sette e mezzo. Eh io sono molto soddisfatto perché eh tante proposte in poco tempo sono difficili perché quelli sono automatismi, lettura, tante cose e ehm e loro invece sono sono cresciute molto durante l'anno. Eh quindi vorrei dargli un voto eccezionale eh per la loro impegno però ecco mi mi fermo su sette sette e mezzo perché poi in campionato B2 stanno facendo comunque molto bene. Ok sette sette e mezzo. Allora passiamo invece alla difesa. La difesa qui arranchiamo un pochettino arranchiamo senza mai mollare quindi diciamo un sei e mezzo per come come sprono come mi dicevano a me sei e mezzo per allora passiamo all'attacco l'attacco l'attacco va io insufficiente non non ne darò eh questo è un voto che che cambia di volta in volta in base alle difficoltà è difficile dare un voto loro stanno scoprendo tanti colpi stanno provando tante cose no do un voto alla loro al loro divertimento di attaccare allora non all'attacco perdonami anche un sette e mezzo otto perché loro ci provano sempre da qualsiasi posizione non mollano mai a questo voglio dare un voto. Quindi un voto per l'impegno. Un voto per l'impegno. Per ultimo ti chiedo sulla battuta. La battuta al sei. Una sufficienza piena. Una di sufficienza regalata perché è un fondamentale sul quale noi pretendiamo molto di più visto che la palla ce l'hanno loro in mano il pallino devono pensare solo alla tecnica e a volte la richiesta è anche di rischiare quindi non hanno troppo a cui pensare e invece questo questo invece le frena troppo quindi io da loro mi aspetto a noi ci aspettiamo molto di più da loro su questo fondamentale. Ok finiamo qui questa intervista.